Le 10 aziende che pagano di più in Italia i loro dipendenti. Ebbene, oggi andiamo a rispondere a questa domanda, cioè quale sono le 10 aziende che pagano di più in termini di salari, di stipendi, i propri dipendenti? Oggi lo vedremo insieme, quindi rimani fino alla fine di questo video, fai questo percorso insieme a me e scopri in quale azienda andrà a lavorare. Tutto questo però ovviamente dopo la sigla. Via! Dall'energia passando per la tecnologia arrivando fino all'aure nautica. Andremo a vedere le 10 realtà in Italia che pagano di più nel 2023. Ma per fare ciò dobbiamo introdurre un concetto fondamentale per questo video, e cioè il CSI, che sta ad indicare il Corporate Salary Index. Questo indicatore ci mostra quanto un'azienda retribuisce i propri dipendenti rispetto alla media nazionale. E per calcolare questo indicatore è sufficiente fare una divisione tra la RAL di un'azienda X, la RAL media che abbiamo all'interno dell'azienda X, e dividerla per la RAL media dell'intero mercato italiano. Per RAL ovviamente si intende il reddito lordo, annuale di un dipendente. Se questo indicatore, il CSI, ha un valore che sopra i 100 punti, beh, significa che questa azienda sta pagando di più rispetto alla media i propri dipendenti. Viceversa invece se questo valore è al di sotto di 100, beh, significa che stanno pagando in media queste aziende meno rispetto alla media nazionale. Bene, eccoci a schermo ragazzi e partiamo subito con la lista delle top 10 aziende che pagano di più in Italia in termini di stipendi. Ok, questa è la mia personalissima tier list. Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione tutta una serie di informazioni utili, di articoli e tanto altro per ottenere, per visionare anche le fonti dati, ok? Chi fosse interessato, chi fosse curioso. Ma non perdiamoci altro tempo e andiamo subito alla lista delle top 10 aziende per stipendi in Italia. Ovviamente la lista passa da un posizione numero 1 fino ad arrivare alla decima posizione. Noi partiamo con la decima e andremo ovviamente a scalare tutte quante insieme. Come vedete queste sono le principali aziende che tratteremo oggi, le top 10. Ci sono alcune che sono sicuro che già conoscerete subito a colpo d'occhio, altre invece che andremo a scoprire insieme. Iniziamo subito con la decima posizione, cioè Salini Group ragazzi. Bene, Salini Group è un gruppo multinazionale italiano nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria. Quindi ingegnere all'ascolto, beh questa potrebbe essere un'ottima azienda per voi. Quindi questa azienda ha un corporate salary index, pensate un po' bene, di circa 110,3. Ciò significa che Salini paga in media i propri dipendenti 10,3% in più rispetto alla media del mercato ragazzi. Quindi uno stipendio così secco un 10% in più senza far nulla soltanto perché lavoriamo per Salini. Bene, molto interessante quello ragazzi, ma non perdiamoci in altre chiacchiere, andiamo subito alla nona posizione. Beh, questa è un'azienda che non devo sicuramente presentare perché parliamo di Microsoft. Bene, colosso multinazionale informatico statunitense fondato da Bill Gates nel 1975 ragazzi, attualmente sviluppa, produce e vende personal computer, software, elettronica di consumo e qualsiasi altra forma di prodotto e servizio, veramente di tutto e di più. Bene, Microsoft ha un corporate salary index di 110,6. Quindi Microsoft paga i propri dipendenti un 10,6% in più rispetto alla media del mercato. Beh, ovviamente chi non vorrebbe lavorare per questa azienda, per Microsoft Italia? Beh, penso tutti quanti voi. Ok, ma a questo punto andiamo all'ottava posizione. Ottava posizione per un'azienda italiana ragazzi, se avete capito bene stiamo parlando di Sogei. Sogei ragazzi è un'azienda totalmente italiana, società generale di informatica. È un'azienda che opera nel settore dell'informatica, come avete sicuramente capito, e svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione. Ok? E in particolare per il Ministero dell'Economia e della Finanza e per le agenzie fiscali italiane. Bene, questa azienda informatica, pensate bene ragazzi, ha un corporate salary index identico a quello di Microsoft. Quindi un 110,6. Ma ovviamente ha qualche benefit in più, soprattutto per le posizioni più rilevanti, più importanti, quindi nel top management. Per questo motivo si prende di diritto l'ottava posizione di questa tier list. A questo punto vi starete chiedendo qual è la settima azienda. E bene ragazzi, anche in questo caso è un'azienda italiana e parliamo di Barilla. Sì, Barilla tutti quanti conosciamo, multinazionale alimentare italiana che opera nel settore della pasta, dei sughi pronti, dei prodotti di forno alimentari, farine, pane e tutti questi prodotti alimentari. Ha un corporate index salary di circa un 110,7. Ok, quindi Barilla paga i suoi dipendenti un 10,7 in più rispetto alla media del mercato. Quindi chi fosse interessato a lavorare con Barilla, sappiate che siete sicuramente molto molto fortunati. Avrete un salario più alto della media degli italiani, ok? Della media del mercato. Quindi circa un 10,7 in più rispetto alla media. Bene, ci sono tantissime posizioni all'interno di Barilla, tra cui molte anche nell'ambito marketing. Quindi, beh, dateci un'occhiata al loro sito web. Ok, ma passiamo ora alla sesta posizione di questa lista e troviamo in questo caso invece una multinazionale svedese. Bene, so che alcuni di voi già hanno intuito qual è l'azienda perché infatti stiamo parlando di Ikea, ragazzi. Bene, Ikea è sicuramente un'azienda che conoscete tutti quanti, fa tutta una serie di prodotti specializzati nella vendita di mobili, di, diciamo, arredo e oggettistica per la casa. Questa azienda ha un corporate salary index di 111,1, ragazzi. Quindi, beh, si distacca già dalle precedenti che abbiamo iniziato a vedere. Quindi Ikea paga in media e propri dipendenti circa l'11,1% in più rispetto alla media nazionale. Beh, Ikea è un vero gioiellino, una vera azienda ad hoc, beh, molto interessante per tutti coloro che amano questo tipo di industria. Posizione numero 5 e parliamo di un'azienda italo-francese che produce e commercializza occhiali, ragazzi. È presente in oltre 150 paesi e è la più grande produttrice mondiale di montature per occhiali da vista e anche da sole. Sono sicuro che tantissimi di voi già non avranno capito qual è l'azienda e stiamo parlando di, sì, Luxottica, ragazzi. Eccola qua, la mettiamo in quinta posizione. Pensate che Luxottica è una tra le migliori in Italia per pagare i manager. Quindi se hai un profilo alto e sei un manager d'azienda, beh, sappi che Luxottica probabilmente è una delle migliori ipotesi che hai, opportunità che hai in Italia. Bene, la corporate salary index è di circa 111,6% e quindi paga in media un 11,6% in più rispetto della media nazionale. Quindi ottima azienda Luxottica e ora invece passiamo alla quarta posizione. Quarta posizione dedicata a un'altra azienda italiana. In questo caso parliamo di ENAV, azienda pubblica italiana sotto forma di società per azioni, che opera come fornitori in esclusiva, ragazzi, in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile e nello spazio anche aereo. Quindi è aerospaziale, quindi un'azienda veramente, veramente molto importante. Questa azienda ha anche scopi, ovviamente, militari, anche scopi, diciamo, sia civili che militari. È una delle aziende migliori che potete trovare nel panorama italiano. Paga in media oltre l'11,8% in più di salario rispetto alla media nazionale, ragazzi. Veramente molto, molto interessante e soprattutto si trova in un settore strategico per il nostro paese. Ok, ma ora siamo arrivati, ragazzi, alla top free, ok? Quindi le tre aziende che pagano in assoluto di più in Italia. E, beh, quelle che sono rimaste sono le seguenti. Quali sarà la numero uno? Beh, lo vediamo tra pochissimo. Innanzitutto, numero tre. E parliamo di una multinazionale di beni di largo consumo che ha sede negli Stati Uniti. Parliamo di un gruppo che produce tutta una serie di articoli di consumo di vario tipo, dove tra i vari brand conoscerete sicuramente Mastro Lindo, Viacal, piuttosto che prodotti per la cura del Bucato, come ad esempio Dash e tanti, tanti altri prodotti, ragazzi, veramente di tutto e di più. Sto parlando di Procter & Gamble. Procter & Gamble veramente gigante. Azienda gigantesca, anche presente nello Standard & Poor's 500, tra le migliori e le più grandi aziende americane. Ok, questa azienda ha un corporate salary index, ragazzi, ascoltate bene, di 112,5, ragazzi. Bene, questo significa che un dipendente di Procter & Gamble Italia guadagna oltre il 12,5% in più rispetto alla media del mercato. Quindi, ragazzi, stiamo veramente entrando nella top 3 e soprattutto stiamo entrando in cifre molto interessanti. Seconda posizione per, beh, seconda posizione per Cisco. Bene, Cisco è un'azienda statunitense specializzata nella fornitura di apparati network, in particolare è entrata anche nel settore ad oggi della sicurezza e della telefonia. Con un corporate salary index di 113,9, Cisco paga in media circa il 13,9% in più rispetto alla media del mercato, ragazzi. Mettiamola di diritto in seconda posizione e, ragazzi, cosa vogliamo fare? Hanno veramente tanti benefit anche proprio in termini di auto e tanti altri benefit che i propri dipendenti possono agevolare, possono avere. Quindi, Cisco tra le top in Italia. Ma, come avrete capito, la migliore, l'azienda che paga di più in Italia nel 2023, Beh, è sicuramente A2A. Non so quanti di voi conoscono questa azienda, sicuramente in termini italiani è veramente molto conosciuta. Infatti parliamo di una società multiservizi italiana attiva nella produzione, della distribuzione e soprattutto nella vendita di energia elettrica, di gas e di tutta una serie di altri servizi, anche ambientali, e per lo sviluppo dell'efficientamento energetico. Anche presente nel, diciamo, tutto l'apparato e nel tutto il mondo dell'economia circolare. Quindi, questa azienda ha un corporate salary index, beh, ragazzi, di 117,1. Quindi, A2A paga in media i propri dipendenti un 17,1% in più rispetto alla media. Quindi, anche rispetto alle altre due grandissime aziende che rientrano nel top 3, hanno veramente un grande gap. 17% in più rispetto al resto di tutto il mercato italiano. Bene, ragazzi, ma a questo punto di aver scoperto le 10 aziende top in Italia per gli stipendi, fammi sapere la tua, voglio sapere qui sotto cosa ne pensi e soprattutto in che azienda vorresti lavorare. Ovviamente, se questi contenuti ti piacciono e sono di valore, fammelo sapere con un bel like, un'iscrizione al canale e attiva anche la campanella così che rimaniamo sempre in contatto e potrai vedere anche i miei prossimi contenuti. Noi, ovviamente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima! Ciao a tutti!